Noi stiamo puntando molto sulla generazione Z, quella dei giovanissimi, perché vogliamo che la palestra non sia solo un luogo dove praticare dello sport, fare dell'allenamento, ma vogliamo che diventi un luogo di incontro, una community e un luogo di crescita per i giovani. Per cui stiamo investendo nel futuro, ma lo stiamo facendo nel presente concretamente per i giovani, i giovanissimi.